Sono Alessandro Abbiatti di Kerberos, siamo qui in Air Management 2018 a Bologna per presentare le soluzioni della nostra azienda in materia di contabilizzazione del calore e termoregolazione integrati. La nostra azienda lavora sia nell'ambito del monitoraggio dei consumi per l'industria, con un occhio particolare all'industria 4.0, sia per l'appunto la contabilizzazione del calore per gli edifici. Per questo lavoriamo sia con gli ESCO e gli studi di progettazione, sia con gli energy manager e i manutentori dei condomini. Siamo qui per presentare le nostre soluzioni, sia con Maggiordomo, che è una soluzione senza ripartitore, che quindi non richiede antiestetici percorsi e che permette con una sola soluzione di gestire nell'appartamento fino a 8 ambienti e poi con dei ripetitori e un concentratore di gestire per quanto riguarda invece l'amministratore di condomino tutti i dati di contabilizzazione dell'energia. Presentiamo anche qui in questa occasione la nuova app di Maggiordomo, che permette a portata di clic di gestire per l'utente finale tutte quelle che sono le funzioni di termoregolazione della sua appartamento per una gestione ottimale del comfort e per la soluzione ritagliata a sua misura a portata di mano, ovunque egli sia.